Siamo giunti al momento in cui dobbiamo e possiamo andare a configurare realmente quello che è un progetto scritto in TypeScript. Questo mi porta a dover fare una premessa. Per chi pensasse o comunque volesse chiedere di andare a poi realizzare TypeScript per React, TypeScript per Angular, per Vue, per quello che uno vuole utilizzare, questo non è possibile, non esiste TypeScript per React, TypeScript per Vue, TypeScript per Angular. TypeScript è TypeScript, è come JavaScript, non è che esiste JavaScript per React, JavaScript per Vue, JavaScript per Angular. JavaScript è un ecosistema, nello stesso modo TypeScript dipende poi da come lo andiamo a configurare. Possiamo poi andarlo a configurare in modo che il nostro progetto è React e viene poi emesso del codice appunto che è compatibile con React, con Vue, con Angular. Ci sono delle differenze nella configurazione appunto alla base del progetto, ma non esiste il TypeScript per React e TypeScript punto e basta. Quindi questo è il primo punto. Ma andiamo ora finalmente a configurare quello che è il nostro progetto. Faremo una folder che chiameremo 02 realts, chiamiamolo così, sposto un attimo il microfono, realts e ora andiamo a vedere come si configura un progetto. La prima cosa che dobbiamo fare è andarci sicuramente a spostare all'interno di quello che è realts. Quindi andiamo, siamo già dentro realts, ok? Siamo dentro la nostra folder di realts. La prima cosa appunto da fare è andare a lanciare un comando tsc-init. Questo andrà a creare all'interno della nostra folder di riferimento un file chiamato ts-config.json che è ciò che ci permette di configurare come vogliamo appunto che il nostro JavaScript poi venga compilato, nel senso come TypeScript verrà compilato in JavaScript. Abbiamo qua una serie appunto di informazioni. Qua abbiamo questo target che va a definire che tipo di JavaScript andremo ad emettere. In questo caso andrà ad utilizzare yes next. E qui andiamo a definire appunto che JavaScript verrà emesso, quale versione di JavaScript vogliamo andare appunto a emettere. Se vedessimo cosa ci suggerisce di compilare, vedete abbiamo 2015, 2016 e tutto quello che ci pare e piace qua. Sta a ognuno scegliere cosa deve andare a emettere rispetto appunto al tipo di progetto su cui sta lavorando. Poi sotto a questa voce fanno riferimento tutte quelle impostazioni e configurazioni che aiutano a TypeScript a individuare il linguaggio che stiamo utilizzando, con quale libri o con quale framework per andarlo poi a compilare ed emettere nella versione giusta, quando andrà appunto a fare il transpiling verso JavaScript. Qua abbiamo una serie di configurazioni che riguardano la risoluzione dei moduli. Insomma, sono tutte configurazioni che riguardano il singolo caso, secondo il progetto con cui stiamo andando a lavorare. Possono anche tranquillamente essere cancellate quasi tutte. Nel nostro caso non ci serve quasi veramente nulla. Ma come si fa appunto a configurare un progetto molto molto basilare? Beh, quello che ci servirà sarà sicuramente in primis quello di avere un file appunto index.html. Andiamo a lavorare con index.html, classico modo di dichiarazione, andiamo a ficcarci un bel punto esclamativo, verrà fuori il nostro template di base. Ancora prima di iniziare non voglio avere a che fare in nessun modo con un background bianco, quindi andremo a fare una dark mode terribile in cui il nostro body avrà un background color che sarà 32, bellissimo, e avremo poi color FFFF, e poi andremo a posizionare qua il nostro script per andare a fare l'inject del nostro javascript, javascript, quindi script, src, source, e andremo a dirgli dist slash index dot js, dovrebbe essere così. Ok, in questo momento non ci sarà nulla, questo perché dobbiamo andare a creare poi diverse folder, tendenzialmente l'approccio che si utilizza è quello poi di avere quella che è una folder che si chiama source, e una folder che si chiama, possiamo andare a dire dist. Quello che farà appunto, quello che noi faremo sarà andare all'interno di source e creare quello che è un file che possiamo chiamare tranquillamente index dot ts. All'interno del nostro index dot ts possiamo metterci tranquillamente quello che è un console dot log di hello world, anzi, bella per tutti, virgola so typescript. Ora noi di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno che tutto ciò che noi scriviamo nella nostra folder disters venga compilato all'interno della folder di dist. Come facciamo a ottenere questo risultato? Intanto andiamo nella folder principale, ci spostiamo nel nostro file di configurazione, cerchiamo l'impostazione che si chiama outdir, che va a dirci come vogliamo appunto, dove vogliamo più che come, vogliamo che venga compilato il nostro codice. Quindi andiamo a metterci tranquillamente nella nostra folder di dist. E a questo punto possiamo lanciare il comando tsc-watch senza il file successivo, perché lui in questo momento avrà all'interno della root, della folder in cui stiamo lavorando, un file tsc-config.json lo cercherà e andrà a utilizzarlo per compilare il nostro codice. Ora vedete che all'interno di dist ci ritroviamo con il nostro console log, bella per tutti, so typescript. A questo punto all'interno del nostro index.html abbiamo, andiamo a utilizzare il nostro file .js non typescript, possiamo andare a lanciare il nostro server. Io per fare questo utilizzo l'estensione live server, che serve banalmente a lanciare un server. Adesso non mi ricordo dove sia, ma sarà da qualche parte. Live server. Uno utilizza questa estensione e ti permette di, a partire da un file .html o col tasto destro con open with live server, oppure premendo un bel go live. In questo punto adesso mi aprirà sicuramente sullo schermo sbagliato. Infatti ha fatto esattamente questo. Ci portiamo il mio schermo incredibile, pazzesco qua, e andiamo a fare l'inspect e troveremo all'interno della nostra console assolutamente nulla. Abbiamo sbagliato molto probabilmente l'import. Ah, src, eccoci qua. Ora deve essere tutto quanto. Ok, bella per tutti, so typescript. Quindi il nostro progetto ora di per sé è funzionante. Sì, appunto qua scrivessi questa sì cosa, lo portassi avanti, mettiamo qua so typescript, is working a caso che non vuol dire nulla. Lui lo va a compilare automaticamente, anche in modalità watch va a ricompilare ogni volta che salviamo, e noi a questo punto siamo in grado di lavorare con quello che è un progetto in typescript.